Non sono ancora rientrati tutti a casa i residenti delle quattro frazioni nel comune di Valle Castellana che da lunedì scorso sono stati fatti evacuare con l'utilizzo di due elicotteri dei Vigili del Fuoco. Questo perché sono rimasti isolati a causa di due slavine cadute nella strada provinciale 52 isolando i territori rendendo necessario il salvataggio di 25 persone. Ma nonostante la riapertura della viabilità ripristinata la sera stessa di lunedì dagli uomini della provincia di Teramo le criticità per i residenti di quelle zone restano e soprattutto potrebbero aumentare in vista di un probabile peggioramento meteo. C'è un'allerta meteo di abbondanti nevicate quindi io ho preferito non risalire. Qualcuno è risalito però ecco c'è questa allerta meteo e soprattutto il pericolo sono queste valanche che purtroppo ci dobbiamo a che fare perché sono 40 anni, 50 anni che questa valanche è lo stesso posto è sempre lo stesso posto. Quindi la provincia che ne dicano abbiamo fatto lavoro e non hanno fatto niente perché la valanche sta ancora lì. Quindi quella è una cosa pericolosa e ringraziamo Dio che non è successo ancora niente. Ci sono persone che nonostante le difficoltà registrate negli ultimi giorni non hanno però potuto lasciare la propria abitazione. C'è il panettiere che non potrebbe andare via, la fattoria didattica agli animali non può andare via e quindi il problema resta sempre quello. Questa valanga annualmente scende sempre quindi è molto molto pericolosa e la gente ha cominciato a essere proprio dice o ce ne andiamo tutti da questa montagna perché che facciamo? E lì c'è anche un altro problema la questione della linea telefonica che purtroppo molte volte va via. Per telefonare ad esempio io che sto a casa mia devo fare 500 metri in sopra verso Leofare dove becco il canalone e posso telefonare. Quindi abbiamo provato con tutte le società per far sì che questa cosa avvenga. Abbiamo scritto la regione, abbiamo scritto la provincia, abbiamo fatto di tutto però purtroppo la montagna diciamoci la verità la provincia di Teramo la nostra montagna l'ha abbandonata. Non hanno un progetto, non hanno niente. A tempo di votazione è chiaro che arrivano, poi ti promettono. Io ricordo quando ci fu un referendum per passare ad Ascoli i nostri politici non sono venuti, nessuno, non si sono fatti proprio vedere. Quindi diciamo non hanno proprio nessuna intenzione di fare qualcosa per la montagna. Tempo dieci anni, la montagna sarà finita.